Benvenuti in un video, io sono Palocane e oggi vi voglio far vedere una cosa davvero incredibile Vedete sull'armadietto che c'è una cosa? Lo vedete? Volete davvero scoprire cosa è? 3, 2, 1 Ecco, c'è lui Così è ancora più brutto No, forse devo... E vi voglio dire anche un altro segreto Se ora andate qua... No, dai, perché sbaglio sempre Da un po' fastidio Dai C'è anche la settimana 8, come vedete Quindi sarà finita qua per Deadpool, eh? E far vedere quanto è bello Ecco Ecco Deadpool Poi ci sono anche le sue pistole nelle partite Se andate a vedere le partite E per questo video è tutto Alla prossima